Bella ragazzi, siamo tornati con Spartas sul tubo su Halo 3 ODST E eravamo appunto rimasti, avevamo fatto un prologo molto molto veloce Più video che sparare, giusto per farvi intendere come funziona la parte principale, come è strutturato il gioco E ora andiamo a vedere finalmente l'altro tipo di parte del gioco per esaminare quello che abbiamo trovato Ecco il casco lì, in qualche modo c'è arrivato Questo è Virgil Non ci dici il suo nome Lady Intelligence Navale Ecco dove è atterrato Quindi cucitevi la bocca, sedetevi E preparatevi al combattimento Piazza I Tagliari Raggiunge il luogo dello schermetto di Dare prima dei Covenant Ah no, ora siamo back Back Piazza I Tagliari Subito dopo lo sbarco Quindi Buck si è ripreso subito Non ha avuto troppi problemi a differenza di noi Questo è Virgil Guardate la faccina di Virgil che cambia in base allo stato d'animo Oh, è triste perché ha visto l'impatto Squadra Rapporto situazione Mi senti Buck? Sì Dammi un attimo Colui si è ripreso già di subito Atterraggio duro Il mio portello non si apre E il tuo? Boom Funziona Bene, hai finito di perdere tempo Servi aiuto Dove ho sbagliato? Sai qual è il mio unico rimpianto? Non sapevo fossi dei servizi segreti al nostro primo incontro Altrimenti avrei tenuto a bada il mio fascino Ecco cosa mi mancava di te E non attudi mai il cervello prima di parlare E il mio lavoro non c'entra Abbiamo deciso insieme di finirla Sono passati tanti anni Veronica Non ricordo i dettagli Chissà quanti altri idioti avrei trovato Per chi hai scelto me per questo safari? Perché sei il mio soldato che conosca E poi Davvero non ricordo Quella notte Ciò che mi chiedesti il mattino dopo Ricordo che non mi hai risposto Come hai detto Buck Non ti sento Ho detto di restare lì Arrivo Due ex amanti Quest'area è in mano ai Covenant Ma va? Grazie per il pensiero Phantom in arrivo Da morto non saresti d'aiuto a nessuno Ecco simpatica Pronti? Benvenuti con Buck Ecco cosa abbiamo Pistolina Una postazione mezza rotta Una marea di Covenant Tanti tanti Covenant Mamma mia come lancia Fa partire una parabola veramente grossa in sto gioco Hanno aumentato questa parabolona Ok Subito ragazzi Dopo il primo flash Controllino Sta andando tutto bene E continuiamo Guarda che parabola che fa ogni tiro Ma cosa abbiamo fatto Stai giù Stai giù Stai giù Stai giù Sì Suga Merda La lanciata lunghissima Ma Andiamo a toglierci di mezzo Mi stanno facendo male Ok Boom Vai a fare in Ok Crepa Bastardo Merda Andato Ok Poi Ho visto della vita Là in cima dove siamo partiti Scusate ragazzi Faccio un attimo un salto a prenderla Perché come vedete Non è facile Infatti come notate Ci sono anche meno squadre Covenant Cioè non abbiamo la quantità enorme Di nemici che avevamo con Chief Ok vediamo se riusciamo ad arrivare qua in cima Con Chief ci avremmo messo un secondo Qua ci mettiamo Due Bastardo Porca puttana Niente vita Proseguiamo O almeno non da qui Purtroppo non c'è niente di troppo facile Allora Non vedo punti dove poter ripristinare la vita Proseguiamo E speriamo in bene Soldato Qui Chi? Ho visto la tua capsula Hai una fortuna sfacciata Ah vaffanculo Ne hai vista cadere altre? Negativo Anche se quel lampo mi aveva quasi acceccato Ascolta Alcuni di questi edifici sono accessibili Potresti entrarci e attaccare i lati Covenant sulle strade Ho capito Grazie Ok aspetta che prendo della vita Aspetta Ok Ora ci siamo Attacchiamo sti Covenant ai lati Proviamoci sulla sinistra Ed in tre Andiamo al piano di sopra Facciamo attenzione Zona scuola Per favore Rallentare Cosa diavolo è successo qui? Ultimo avviso Fattura Scaduta Preso Figlio di puttana Epa Fanculo Fanculo Andato Occhio Ragazzi Merda Andato Tirato Fattura Epa Merda Sono morti tutti Figlio di puttana Cazzo arriva Andato Ho perso tutta la squadra Ma va bene Scendiamo giù Anzi ma perché devo farmi il giro Abbiamo più di strada Questa granata Ok Potrei proseguire di qua Potrei però prima fare il cecchino Merda Stiamo avvi un'altra volta Magari Capito I grunti in genere non stanno per tanto tempo fermi In genere Eccolo Addio Eh vaffanculo Vaffanculo Ho preso Una è andato Andato Ok Una squadra è andato Così finito i colpi Proseguiamo qua dentro Andiamo a prendere delle munizioni Da quei poveri disgraziati Se riusciamo Ma stiamo attenti qua dentro Soprattutto Tutto Cazzo è che li ho uccisi tutti Non mi chiamaccia Una pistolina Ottimo Questa può esserci Ok Però non vedo Scendiamo Ecco Eccolo 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 Granata Parabola lunga Boom Andiamo Buona buonotà Aia mitragliatrice Mitragliatrice Ora Andato Andato Preso Perfetta Porca Credo che sia andato Ottimo Munizioni Vita Zona Zona libera Ce l'abbiamo fatta Anche a sto giro Questo io non credo Che possiamo Ah possiamo staccarlo Siamo abbastanza forti Per staccarlo Ottimo Pensavo di no Covenant morti Una marea Una marea veramente Aia cecchini Ci muoviamo Infino in fondo La Buono la granata Li salta in mano Ottimo Esattamente Quello che volevo Qua la situazione Tranquilla Proseguiamo Un altro Un altro Cazzo Prendiamoli 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 Voglio fare fuori Prima quelli Ok Credo di averli Almeno Trattenuti Ma Dovrebbero essere Morti Occhio alla destra Un altro C'è un brut Poi c'è un brut Poi c'è un brut Poi c'è un figlio Di puttana Che è morto No Ottimo Colpi Andato Via Colpisci E ora ci andiamo Su E facciamo Buongiorno Buongiorno Stronzo Baggone Ottimo Tutti morti Zona sicura Proseguiamo Controllino Stando tutto Ok Andiamo Presimente Toc toc Soldati Abbiamo Granata Lancio lungo Boom Quanti cazzo Sono Andato Qua ci rimango Ci rimango Parecchio Buono C'è quel fucile Lì Cazzo Li butto Giù da qua Speriamo che la strada Di sopra Sia aperta Pochi colpi Cambiamolo con questo Correre Correre Non correre Vai 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 Andiamo C'è una carabina Però eh Attenzione L'arma migliore Contro i brutta Eh La carabina Però È molto Sensibile Il mirino Finalo Tra di settimana Mi sono quasi Qualche problema Correre Nemici si avvicinano La mia capsula Ascoltami bene Se non dovessi farcela Ehi Basta così Arrivo subito Trappo tardi Mi hanno vista Maledizione No Veronica Dimmi qualcosa Qualcosa Non muoverti Sto arrivando Ok Andato Carabinata Colpo di merda L'ho colpito Ma non l'ho fatto un cazzo Logicamente Un fucile a pompa Pompa Ah no Questo però È vero C'è questo Aspetta 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 Sto offrendo Qui c'è la pompa Andiamo a regalare Ci morano i cacciatori E qui Ah giusto per ricordarmelo I cacciatori È la cosa Non ci aiuta Oh Puttalo giù Stanno sparando Corpito Corpito Andiamo giù quello là No 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 Io non ti conosco Ok Fuori due Fuori due Andato Crepi Crepi Grazie Ok un altro Uh Non so come cazzo Ho fatto sopravvivere Ragazzi Sinceramente Guardate Cacciatori dorati Forse ci sono solo qua Anche questi Io prendo subito Quella mitralettrice Se la trovo Prendo un po' di vita Se la trovo Ma non la trovo Logicamente Un po' di superato Siamo giusta E direi che qua No Sì E qua ci siamo quasi Sì i livelli comunque ragazzi Mi sa che saranno Poche parole Un po' più corti Rispetto Ai classici livelli A cui siamo abituati In anno Ah è una lì la vita Andiamo a prenderla Sono un po' più cortini Un po' più concisi Ma magari vi piacciono Anche di più No Poi i livelli di 40 di minuti Io cerco di farli Principalmente per Dare un senso più Fluido alla storia Perché non sto a farvi Otto party Di un livello Che non ci si capisce Un cazzo Che o te le guardi tutte insieme O se le guardi una Dopo un giorno Dall'altra Diventi scemo Oggetti smarriti A livello inferiore Vedi Virgil è il suo modo Per dirci Eeeh Oggetti smarriti Quello che stai cercando Cioè la tua compagna È a livello Inferiore Noi andiamo subito A dare una mano Ok Stanno provando A incularmela Nuovo dato intel Vabbè i dati intel Ora non li stiamo a guardare Siamo arrivati E chissà se c'è ancora Premi rb Per aprire la capsula Vediamo Eccomi Sono qui Non c'è Oh no Oh no Ah ecco c'è lei Boom Un alleato Occhio Ed è volato Lai in cima Il nostro ero Ok Che diavolo era Che diavolo era? Hai mai visto niente del genere? Ehi Romeo Mi senti? Ah ho capito Non gli aveva dato il premesso di parlare Permesso di parlare No non so cosa fosse Ma ti avrebbe ridotto piuttosto male Proprio come è successo al capitano Già Può essere Notizie di Mickey? Dutch? Negativo La recruta Dobbiamo salire e collegarci alla rete Un nostro drone deve aver visto dove sono atterrati E dimentichiamo la missione della tua amica Ti ha detto cosa voleva fare? No Mai Non importa Ora voglio solo far uscire i miei uomini da questa città Te incluso Bene ragazzi Ottimo Direi che anche questo video si conclude qui Molto più corti Comunque viene confermato Ora siamo di nuovo con il nostro amico La recruta E noi ci vediamo al prossimo video Direi che ci possiamo salutare tranquillamente E ciao a tutti